Ciao ragazzi e benvenuti con un nuovo video, sono Gaby Crosette e benvenuti finalmente con un'altra A-R, come vi ho promesso mi ho fatto con un'altra A-R, però già inizio con l'ordinatore e niente, perché sono tanti al di questo piano, anche il nostro video. Come, come si chiama? Come si chiama? Come si chiama? Come si chiama? ok ok ehm ehm andai un po' di palle e ehm 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 a ehm Allora, provoca un po' che viene in questo momento, a volte la sede, a volte per farla settimana per questo quale ha terminato da un mossa, per il quale non si può fare. Questa è una mossa del quattro metto. Questa è qui ciò che fa. Chiama il quattro metto, in questo momento. Il quattro metto è questo. Il quattro metto, ma che era il quattro metto. Ah, io credo che la cazzo è la mia e la conoscenza, eee, sì. No, 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 no. No, 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 no. Ma no, vai facerte così. Er, er on packet è una fuori di balle ma fuori di balle ma fuori di balle oh 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 fuori di balle eeeh ci siamo ad un modo che faccio ahahahah ahahahahah Ok, ecco questo aspetto, ecco meglio il casseggio, c'è il casseggio, e vabbè, stavolo ecco, questa è la acqua, è appena scioccato, è un angago, vuole, ecco, ecco, ecco Ok. 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 E' un affare ragazzi, faccio schifo, vabbè, ho fatto un diretto qua, a trovare i segui che non ho più, per caità, e, ok, e, ok, 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 ok si, senta qualcosa di più guarda, la siga un giro ok, se il tempo è il segno no, non lo so un giro, spesso con il tavolo e come lo so Ok. Ok. Ok ragazzi. Ok. 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 eeeh ei vuoi non faccio però non è così ogni po' di più è la prima cosa non si fati un mone non ho il panato non sono un po' di più ma si fati un po' di più ma è la mia è che è la nel Grazie per la visione!